Ho cominciato a pescare da ragazzino nei fossi intorno a Milano, che abitavo lì, dove sono nato, per fame. Adesso sono a pescare per divertirmi. Sessantina d'anni che costruisco mosche, l'ho insegnato a molte persone. Ho insegnato a alcuni ragazzini qua, che non hanno imparato. Non mi stiamo a pescare il temolo, che non hanno imparato. Non mi hanno fatto anche prendere. Stai calmo Gian, stai calmo. Stai calmo. Però sono fatto che uno di quei signori lì, è anni che me l'ha meno, che me l'ha meno, che me l'ha meno, perché ho stant'anni, e continuano a dire, basco Pianconi. Scusate ragazzi, ma se siete da giovane, avete l'amore di giovane, l'avete a conoscere. Non è un discorso questo, questo qua. La vostra signora, vediamo un po' cosa succede. Sì. 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 che loro sono molto interessanti alla tua heredità qua stanno uscendo delle verità potresti destinare 25% della tua heredità chi vuoi mi sono fatti una serie di canne un po' particolari mi fanno il filo alle mie coda 3 della 6 chi sono? chi sono? tu non preoccuparti alla 9.6 Riky la coda 3 della 6 la vuoi cura? me la provo a te mi provo a essere da marinare no vieni qua con la Roma e poi la d'arte no 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 12 cigare da pesca no 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 no